Il sindaco risponde Il sindaco è un sindaco che ormai sta mettendo in difficoltà non solo l'Italia ma credo che la parte del mondo, almeno mi sembra di aver capito anche se c'è qualche paese che ha la possibilità, anche qui noi non abbiamo preparato, non eravamo pronti neanche per questo, l'Italia non ha mai guardato avanti, noi invece che fare la strada a quattro corsie come quella che va a Castelfranco la facciamo a due per risparmiare e noi non abbiamo fatto l'energia. Ma perché non è vero che siamo così, anche gli altri paesi, no, solo paesi stanno peggio di noi, per cui sempre siamo autolesionisti in totale. C'è solo che stanno anche meglio però. Sì, ma sono anche che stanno peggio, per cui chiaramente non c'è stato nel tempo un piano energetico, questo è il problema, non è stato fatto perché ognuno, no questo, no quello, no bucare, non si fa nulla. Tutti noi adesso paghiamo purtroppo questo, è come avere, è come avere un negozio, avere un cliente che porta via l'80% del fatturato. Uno, il giorno che questo cliente cambia idea, uno chiude, noi abbiamo questo tempo, avevamo un fornitore che ci dava l'80% dell'energia, del gas. Abbiamo sbagliato, non si fanno questo qua, però negli anni, non l'ultimo erano tre anni, negli anni, adesso abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, no hanno sbagliato, abbiamo sbagliato. È sempre facile da accompagliare, è un paese che piatta da un'arte e da accompagliare, invece non è così. Io do la colpa che è la responsabilità, sì, lei ha votato per cui si prende la sua risposta. Non so che non aver votato. No, lei ha votato sicuramente. Io dico, se non ha votato, se non ha votato ancora peggio, per cui ha fatto affare via. Però c'è chi ha votato, l'uomo sbagliato, meglio delle volte. Ma non è negli ultimi anni, è tanti anni. Sì, ho capito, però non dire la responsabilità a tutti noi, ci sono delle persone predisposte che non hanno calcolato quello che doveva accadere. Però da noi si chiama democrazia, abbiamo votato noi. Sì, ho capito, però se io metto il sindaco Giordani, il sindaco lo voto, io mi auguro. Spero che nei cinque anni che lavora il sindaco Giordani, lavora bene. Se il sindaco Giordani sbaglia, dopo cinque anni va a calcare. Ma nei cinque anni lo sa quanti danni può aver fatto in quei cinque anni? Cosa? Lo sa quanti anni? Ma qua non parliamo di cinque anni, parliamo di venti, di trent'anni. Però ognuno, i governi hanno sempre durato cinque anni, sei, sette... No, i governi durano un anno e mezzo in Italia. Sì, è vero che è questo. Va bene, torniamo a noi. Il Comune investirà 11 milioni nei prossimi quattro anni per la gestione del verde in città. E gli sfarci annuali da sei a sette potranno salire fino a dieci in base alla necessità. Questa è una bella notizia perché almeno vedere l'erba alta in la città non è un bel vedere. No, non piace a nessuno, vi garantisco. Io sono il primo a cui non piace l'erba alta. È stato finanziato teoricamente. L'assessore Bressa sta lavorando bene come, devo dire anche a Chiara Gallani, per l'onestà. Sono tutti due bravissimi assessori. Purtroppo quando piove, dopo fa caldo, cresce l'erba. È il nostro impegno di mantenere più tagliata possibile, più curata la città. Anche abbiamo una bella città, sarebbe veramente un delitto rovinare sotto l'aspetto dell'immagine. Lo sfalcio è importante. E quindi troviamo una città più... Cerchiamo di fare il massimo. I parchi sono tanti, sono grandi, dobbiamo mantenere di bene. Ne pensi a Londra? Come succede anche lì? Londra è una situazione climatica molto diversa. È vero, sì. Piove, cresce di più. No, non è vero. Piove, fa freddo. Piove, cresce. Piove, è che la tagliano di più. No, no, in Italia bisogna tagliare 10-11 volte. Là non credo proprio sia 10-11 volte. È già freddo, per cui... E non cresce. Andiamo, sto, è una battuta. Andiamo con i messaggi, rapidamente vai Dennis. È impensabile fare marcia indietro sulle piste ciclabili in Corso Milano che creano code che arrivano fino a Via Vicenza e fanno da tappo all'uscita da Via Orsini? No, le responsabilità non sono delle piste ciclabili. Forse, l'ho già detto, forse abbiamo sbagliato a fare due piste ciclabili. Bastava farne una sola, bidirezionale. Abbiamo sbagliato sull'aspetto sicurezza. Probabilmente quella fatta nel percorso da centro verso Via Vicenza di Sonora forse è un po' pericolosa perché uno in maniera inadvertitamente può aprire la porta e può provocare qualche problema. Va rifatto completamente nel senso che passarà il tram di là. Ha vinto la gara da pochissimo in questi giorni o ieri, non mi ricordo più, è stato assegnato il progetto o verrà assegnato, insomma, me ne devo informare non mi ricordo neanche chi ha vinto e dobbiamo fare il progetto a questo punto di infattibilità e puntuale. Per cui vuol dire che sarà rifatto parlo in caso di Consominano sarà rifatto il parchese ve l'ha messo in mano la fruola Prandina perché va rifatto tutto quel percorso. Secondo messaggio. Buonasera, sono Furio. Ultimamente mi recco in stazione a Padova per questioni familiari e ho notato che ci sono centinaia di biciclette fuori uso che intralciano e che potrebbero essere rimosse. E questo lo facciamo in Menea in Polizia Locale in Fale Menea quasi ogni 3-4 mesi. Il problema è che spesso volentieri i ragazzi con la bicicletta l'hanno lì la portano, la chiudono e se si sa mai se sia la bicicletta che è da buttare che possiamo portarla via dove la portiamo? Per cui ogni tanto facciamo cosiddetta pulizia e tutte le biciclette che veniamo malconce e non chiuse le portiamo in Giovede Storale se non sbaglio. e poi vanno all'asta ma sono tante spesso volentieri qualche bicicletta rubata qualcosa e la stata lì è vero che non è bello però vi garantisco che ogni 2-3 mesi la Polizia Locale fa pulizia e porta via tutte le biciclette possibili non quelle chiuse perché si presume che il proprietario era stato chiuso perché ha preso il treno e poi ritorna. Terzo messaggio, Denis. Buonasera Sindaco quando sarà effettivo l'ampliamento del Parco Iris che avete promesso? È già ampliato il Parco Iris bisogna solo sistemare nel senso è stato vinto 2 milioni di euro sul PNRR stanno facendo il progetto sarà da giostre di ostrine sono molte attività se non sbaglio anche un bar è già è già è già è un corso mi è arrivato un messaggio perché io non ho guardato il telefono che mi hanno scritto che Padova Noto è aperta come piscina mi fa piacere io sapevo erano tutte grosse difficoltà non sapevo Padova Noto è aperta andiamo con l'ultimo dei messaggi sono veramente difficoltà loro tutti quanti tutte le piscine l'ho chiesto perché ci arrivano messaggi in merito quindi l'ho chiesto per questo l'ultimo dei quattro messaggi Denis Sindaco ma non crede che le domeniche ecologiche non servano a risolvere il problema dello smog non servono sicuramente per essere molto chiari non servono nel senso che non cambia però è un problema di educazione siamo obbligati tra i prensi da una legge regionale che si rifà a una legge nazionale che si rifà a una legge europea che non vale per Padova vale per tutta la regione a Veneto Lombardia Lombardia Piemonte per cui siamo obbligati della comunità europea siamo sanzionati perché non riusciamo a battere il famoso CO2 di conseguenza siamo obbligati a restrizioni tipo quando c'è il semafro arancio non passano già in Euro 4 dice non posso più circolare dopo un certo questo è il senso mi ricordo che noi miglioriamo ogni anno però l'ora è padana purtroppo specialmente siamo in una zona difficile sotto questo aspetto non c'è ventilazione per cui tutti gli sforzi che facciamo miglioriamo un pochettino ma sempre mai a sufficienza di conseguenza l'Europa ci condanna l'Italia l'Italia condanna le zone le zone condanna i comuni e quindi bisogna chiudere per un giorno per far vedere che si fa non solo per far capire che la salute e l'ambiente è importante penso che siamo tutti d'accordo a conclusione Pado è una bella città è una bellissima poi chi ci vive ancora più bella però il clima lasciamolo stare perché il clima nostro il clima fatico a migliorare l'umidità è un po' impegnativo però vi ricordo 2 milioni e 200 mila turisti da gennaio adesso è un bel successo ne parleremo nel prossimo appuntamento grazie sindaco di essere intervenuto perché abbiamo un po' sforato vi do appuntamento a martedì prossimo con la puntata del sindaco risponde a 19.30 e vi lascio l'informazione di TV7 Triveneta con i reporter buona serata buona serata sindaco grazie grazie a tutti Grazie a tutti.